Buonasera a tutti, benvenuti al secondo appuntamento con i webinar di Analytical per il 2021. Questo è il primo della nostra business unit di Scandici, dove ci occupiamo di test su apparecchiature elettromeccaniche. E come molti di voi sapranno già, perché vedo che vi state collegando, vedo tanti nomi di persone conosciute e di aziende che lavorano con noi ormai da tanto tempo. Il tema del webinar di oggi sarà appunto quello relativo alle tecniche di prove accelerate su apparecchiature elettromeccaniche. Questo è un tema che ci sta molto a cuore perché è un tema su cui lavoriamo ormai da tanti anni, abbiamo tanta esperienza, grazie alla collaborazione pluriannale ormai con il laboratorio congiunto tra Analytical e l'Università di Firenze, quindi con il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, in particolare con il professor Catelani e con tutti i suoi collaboratori. Tra questi collaboratori c'è appunto Roberto Singuaroli, che oggi sarà il relatore di questo webinar. Roberto, anche lui che sicuramente conoscerete in tanti, quantomeno tutti quelli che sono passati da Ingegneria da Firenze, è responsabile tecnico del laboratorio di test di affidabilità dell'Università di Firenze. Il webinar di oggi è il naturale proseguimento di quello che abbiamo già tenuto con il professor Catelani, sempre su temi affidabilistici. La parte del professor Catelani è stata, diciamo, prettamente concentrata su una trattazione magari dagli aspetti più teorici, mentre oggi invece la trattazione sarà molto più focalizzata su degli esempi applicativi. Roberto infatti lavora su questi temi ormai da tanti anni, grazie anche appunto alla strumentazione che il nostro laboratorio mette a disposizione per questo tipo di prove. Quindi parliamo di camere climatiche, di nebbia salina, di prove di vibrazioni, eccetera, eccetera, eccetera. A questo punto, visto che abbiamo già un buon numero di persone che si sono collegate, passerei la parola a Roberto per poter iniziare la sua presentazione. Un'ultima cosa, in basso trovate il pulsante D ed R, quindi se ci sono delle domande potete cliccare su quel pulsante, scrivere il vostro breve testo, la vostra propria domanda e Roberto Singuaroli poi risponderà a tutte le domande alla fine della sua esposizione. Quindi vi ringrazio, vi auguro un buon ascolto dei temi che tratteremo e mi auguro che siano interessanti e di vostro gradimento. Lascio la parola a Roberto. Bene, grazie Lorenzo della presentazione. Mi unisco anch'io ai saluti, ai partecipanti e a quanti di voi hanno avuto occasione di collaborare con me, con il laboratorio congiunto, su delle collaborazioni con aziende o per motivi di studio. Come vi diceva Lorenzo, oggi ci occuperemo di tecniche, tecniche di prove accelerate su apparecchiature. Ovviamente il nostro ambito, tanto per focalizzare un po', diciamo così, gli obiettivi che ci poniamo, riguarda l'ambito delle apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche, in qualche modo insomma legate all'elettronica. e ci occuperemo appunto di prove. La qualità sappiamo già che è il risultato essenzialmente della combinazione di due proprietà, che sono la conformità e l'affidabilità. La conformità è quello che normalmente facciamo nelle prove di laboratorio, prove tese alla certificazione, per esempio certificazione di prodotto, ovvero la rispondenza dei parametri funzionali a valori prestabiliti. L'affidabilità è tutto quello che riguarda prove di vita, prove accelerate, e una cosa importante, come chi di voi ha seguito il corso precedente, l'affidabilità è una probabilità, una probabilità dell'assolvimento della corretta funzione in un intervallo di tempo prestabilito e in condizioni note. Quindi questi due elementi sono essenziali per definire anche le prove. Ricordiamoci, quindi intervallo di tempo e condizioni note. Bene, noi praticamente per sviluppare un piano prove dobbiamo tener conto di cosa dobbiamo tener conto? Del profilo del ciclo di vita, essenziale, dei meccanismi di guasto, e tipicamente porremo attenzione ai guasti critici per la nostra parecchiatura o il nostro sistema. dovremmo applicare, in caso di prove accelerate, dei fattori di accelerazione corretti che derivano poi dalla conoscenza dei modelli chimico-fisici del campione in esame. Ricordiamoci che il piano prove altro non è che un insieme, un insieme di procedure e di specifiche che definiamo noi come esperti di laboratorio, ma la cooperazione col cliente è fondamentale. Infatti in una situazione ideale il processo viene gestito con la cooperazione, quindi fra costruttori, progettisti, consumatori finali, consulenti, e poi tecnici ovviamente di laboratorio e prova. Ricordiamoci anche che gli obiettivi che ci porremo di affidabilità devono essere concordati fra le parti interessate, cioè vedremo più avanti che dovremmo stabilire a priori quali sono le esigenze nostre fondamentali da assolvere. scopo di tutto questo ovviamente è quello di ottenere un processo di lavoro che risulterà poi flessibile e interattivo. Flessibile perché chiaramente abbiamo tutte le informazioni dal ciclo di vita fino ai modelli del prodotto e poi interattivo perché chiaramente tutti gli attori saranno chiamati in causa. Sollecitazioni critiche cosa sono? Beh, le sollecitazioni critiche sono quelle che essenzialmente interessano i modi di guasto del nostro apparecchio o sistema. Chiaramente la stima di questi fattori di accelerazione deve essere tale da non indurre delle sollecitazioni che possono causare dei guasti diversi da quelli che noi avevamo ipotizzato. In particolare, quali sono gli obiettivi di queste prove di affidabilità? Diciamo che si dividono in due grandi macro aree in funzione dell'obiettivo che noi vogliamo portare a termine. Una macro area riguarda il test per i guasti, cioè orientato, diciamo così, a evidenziare i guasti del sistema e un'altra macro area sarà invece insieme di prove, quindi quella che viene chiamata test for reliability, che sono prove invece dedicate a verificare degli obiettivi oppure incrementare l'affidabilità e calcolare dei fattori di accelerazione opportune. queste due macro aree per cosa sono impiegate normalmente. Più frequentemente, se stiamo parlando di componenti e sistemi e apparecchiature, scusate, il nostro obiettivo è quello di stimare il tempo medio al guasto, per esempio, di questi componenti o apparecchiature, cioè l'MTTF. Se il sistema è riparabile, come avete già visto, si può parlare di MTBF, cioè un tempo medio fra guasti che si possono verificare. La cosa importante, naturalmente, è che le sollecitazioni effettivamente applicate, che siano elettriche e ambientali, quindi apparecchiature sottocarico, componenti sottocarico ambientali, cioè temperature, vibrazioni, umidità e quant'altre sollecitazioni ci possono aiutare, sono generalmente costanti nel tempo, e questa è un'ipotesi che facciamo per fare, per stimare un fattore di accelerazione, e superiore al valore progettuale, superiore al valore progettuale, perché ovviamente dobbiamo accorciare i tempi di prova. Bene, si dividono, allora abbiamo visto le due macro aree, e le due macro aree generano due tipologie di prove. La tipologia A, che è una macro area dedicata ai test accelerati, che sono di tipo qualitativo, e la macro area di tipo B, che genera, diciamo così, dei test di tipo B, che effettivamente servono per stimare, per esempio i guasti che noi ci aspettiamo dal funzionamento del nostro apparecchio, del nostro dispositivo. Quindi i metodi di prove accelerate, in effetti sono adatti per tutti e due questi obiettivi, sia per quelli qualitativi, sia per quelli quantitativi. E nella fattispecie noi vediamo, per esempio, in caso di test qualitativi, qual è l'informazione che noi otteniamo applicando delle prove accelerate? Beh, l'informazione che noi otteniamo è una certa confidenza dei limiti di funzionamento. Le prove classificate come HLT sono prove che sono altamente accelerate. L sta per limit test, non sono prove di vita, ma sono prove che ci danno una certa confidenza sul margine che abbiamo a livello progettuale rispetto ai guasti che si possono verificare in caso di sovraccarico, sovratemperature e, diciamo così, sollecitazioni molto maggiori rispetto a quelle progettuali. Naturalmente queste tipologie di prova si fanno l'ipotesi che ci sia un effetto cumulativo di fatica nel nostro componente. L'effetto cumulativo di fatica è dovuto, per esempio, alle alte temperature per dei componenti o per delle apparecchiature, oppure l'effetto cumulativo dovuto alle vibrazioni, pensiamo all'effetto che possano avere le vibrazioni su, per esempio, i connettori, le saldature, un componente, per esempio, che ha un, diciamo così, un sistema di ancoraggio e non esattamente rigido su una struttura e quindi a lungo andare l'effetto di queste vibrazioni può causare appunto un effetto di fatica, per esempio, nei terminali piuttosto che nei connettori di connessione segnale, ad esempio. Bene, e l'estensione ovviamente che noi faremo su queste prove qualitativi sarà quella che questo effetto cumulativo di fatica effettivamente si potrà poi verificare nella vita del nostro dispositivo, quindi nel suo impiego reale. Un esempio di questi tipi di prove che verificano i limiti sono prove ad esempio a gradino in cui voi vedete sulla parte destra del vostro schermo vedete quei gradini di sollecitazione di ampiezza S. La sollecitazione può essere una sollecitazione generica ad esempio una temperatura una potenza applicata al dispositivo un livello di vibrazione oppure una percentuale di nebbia salina e quant'altro quindi una sollecitazione di ampiezza S per un intervallo di tempo delta questa sollecitazione viene incrementata dello stesso gradino quindi vedete da zero a delta da delta a due delta e così via quindi abbiamo S poi avremo due S tre S quattro S e così via finché finché si raggiunge la rottura dei dispositivi in prova naturalmente queste prove fanno l'ipotesi di utilizzare e poi dopo lo vedremo un certo numero di dispositivi per avere confidenza dei dati dei risultati di prova e abbiamo detto che ci sono metodi qualitativi e metodi quantitativi bene nei metodi qualitativi noi abbiamo ad esempio quelli classificati intendiamoci come type A nelle military standard oppure nelle JSD questi metodi qualitativi sono esattamente progettati per identificare delle debolezze nel progetto e debolezze dovute a tanti fattori dalla diciamo la progettazione dovrebbe averne già tenuto conto però il passaggio fra la progettazione e l'industrializzazione o l'ingegnerizzazione del prodotto prevede ovviamente diversi passaggi che non sono direttamente gestiti dal progettista e quindi ci potrebbero essere delle potenziali debolezze nell'assemblaggio piuttosto che nella che so nelle operazioni di collaudo e quant'altro bene i margini tra i limiti e diciamo i limiti di specifica i limiti operativi assicureranno poi che queste debolezze quindi quando noi abbiamo identificato diciamo così una potenziale e debolezza dovremmo essere sicuri che il nostro prodotto durante la sua vita utile non non si guasti per queste debolezze quindi noi le abbiamo identificate e a questo punto correremo a effettuare una un'azione correttiva per che sia nella riprogettazione nell'assemblaggio nelle finiture e quant'altro per evitare appunto questa debolezza se è inevitabile perlomeno lo conosciamo quindi sappiamo che questo dispositivo sottoposto a quella sollecitazione massima sicuramente ha questo aspetto da considerare ok fra questi metodi qualitativi quelli essenzialmente più utilizzati sono i metodi HL alt HL T che sono sono dei test altamente accelerati fortemente accelerati per raggiungere appunto i limiti di funzionamento all'interno di questi shock di questi scusate di questi limiti le sollecitazioni più impiegate sono temperature cicli termici vibrazioni shock quindi e per esempio applicazione di gradini di tensione o di potenza un esempio ve l'ho riportato che nell'industria dei componenti elettronici 100 ore a 130 gradi l'85% sono un test alt dell'industria elettronica nella fatti specie è un test previsto dalla JSD non solo limiti ma si possono diciamo così accelerare con i fattori di stress fattori di stress dovuti per esempio al carico alla corrente massima alla corrente di ripple alla potenza dissipata e quant'altro quindi questi sono tutti stress non ambientali ma propri del dispositivo in funzione il risultato di questi metodi non è una stima di un tasso di guasto per esempio non è una stima di un MTBF però è una garanzia che il nostro progetto può essere diciamo così ragionevolmente lontano dai limiti che noi troviamo quelli più interessanti che vedremo poi anche oggi sono i metodi quantitativi i metodi quantitativi li vedremo poi dopo faremo un esempio proprio applicato di questo metodo e sono progettati proprio per stimare invece il tasso di guasto oppure l'MTBF o l'MTTF comunque tutti diciamo così le grandezze dovute a un modello che in qualche modo ci deve descrivere il diciamo così la fisica del guasto nel nostro dispositivo chiaramente qui servono molte informazioni a partire dalle informazioni di progetto alle informazioni chimico-fisiche sui meccanismi di guasto ma queste informazioni sono fondamentali per produrre un piano di prove che ci possa dare una certa confidenza con i risultati che vogliamo ottenere naturalmente qui poi si va anche nello specifico dell'analisi della fisica dei guasti esistono prove direttamente mediate dallo standard military military standard 810 810 che sono al confine fra prove diciamo così quantitative e prove invece fatte espressamente quindi tagliate su misura per il nostro dispositivo questo per chi di voi ha interesse lo trova ampiamente dettagliato nello standard 810 in cui proprio è descritta la part one che va a vedere proprio le fasi di missione del prodotto e include fattori esterni che sono indipendenti dal processo di fabbricazione dall'uso esempio trasporto distribuzione altre sollecitazioni ambientali immagazzinamento e quant'altro e poi la part two che è quella interessante contiene proprio un elenco di metodi di test che possono essere applicati sui nostri dispositivi per realizzare quel profilo di missione esempio un'apparecchiatura che viene prodotta in Italia spedita all'estero e montata su una su una struttura di cui noi sappiamo magari le condizioni ambientali avrà un certo tipo di profilo di missione cioè la produzione in Italia con certe caratteristiche il trasporto se il trasporto aereo il trasporto navale il trasporto su gomma avrà certi tipi di sollecitazione e poi l'installazione avrà altre caratteristiche ecco l'insieme di tutti questi elementi costruisce quello che si chiama il profilo di missione e noi cosa possiamo fare allora per sviluppare una nostra strategia noi costruttori sul nostro prodotto beh dobbiamo costruirci un piano dobbiamo pensare ad un piano di per diciamo verificare degli obiettivi di affidabilità e allora dovremo pianificare un campionamento dei nostri elementi fornire una certa un certo quantitativo di elementi che vogliamo testare dovremmo sicuramente stabilire quali sono gli stress più significativi dovremmo poi fare questi test e poi dovremmo analizzare i risultati questo diciamo è un processo logico che sembra abbastanza banale in realtà dietro ciascuna fase le competenze che servono sono abbastanza significative le stesse queste queste stesse quattro fasi sempre per chi di voi poi è interessato le può trovare nell'handbook sempre military handbook 338 che si occupa proprio di electronic reliability design handbook e quindi si occupa espressamente dell'affidabilità nel settore elettronico passiamo a vedere più nel dettaglio ciascuna di queste fasi il plan il sampling plan cioè quanti campioni ci servono facciamo già subito l'ipotesi sto sviluppando un prodotto voglio vedere la prima diciamo un primo approccio che utilizzo è quello di vedere se effettivamente alla fine del processo produttivo il mio prodotto è abbastanza robusto rispetto a quello che ho che ho progettato e agli obiettivi che mi ero proposto quindi con tutte quelle operazioni che abbiamo detto in precedenza quindi fase di progettazione industrializzazione e o ingegnerizzazione di questo prodotto beh per esempio se noi vogliamo fare un test di tipo altamente accelerato dobbiamo determinare quali sono gli stress che ci servono dopo ne vedremo un esempio e identificare i potenziali modi di guasto per esempio questo potrebbe significare un modo di guasto dovuto alla temperatura eccessivamente bassa uno alla temperatura eccessivamente alta un altro per esempio dovuto alla parte di vibrazioni meccaniche o in sollecitazioni meccaniche quindi quando parliamo di vibrazioni non pensiamo solo che queste vibrazioni debbano soddisfare dei requisiti normativi ma ci servono per indagare delle potenziali cause di guasto quindi vibrazione piuttosto che ciclo termico oppure altre prove combinate sample size quindi la grandezza di questi campioni per ciascuno di queste sollecitazioni potrebbe essere dai 7 ai 10 elementi e 10 dispositivi per ciascuno di queste di queste sollecitazioni se il nostro obiettivo invece una volta superato l'alt test e abbiamo verificato che le debolezze le abbiamo comunque controllate potremmo passare per esempio ai type B test cioè alla stima effettiva del per esempio tasso di guasto oppure dei nostri obiettivi di affidabilità vi ho riportato un esempio che la JSD 47 utilizza 77 campioni per mille ore per fare delle prove accelerate naturalmente siccome il type B test accelerato cioè quello che ci deve dare delle informazioni su ogni stress che noi abbiamo ipotizzato possa essere possa concorrere al tasso di guasto dobbiamo stimare il tempo al guasto delle prove che stiamo effettuando e se noi utilizziamo la distribuzione di Weibull che normalmente è utilizzata per fare questi tipi di test quindi di prove di laboratorio normalmente questa diciamo così la prova viene fermata quando quando almeno un un terzo dei dispositivi risulta danneggiato quindi non ha superato o non sta più funzionando comunque avremo dei criteri per stabilire quando questi dispositivi si sono guastati bene e siccome con noi riusciamo a traguardare diciamo così una distribuzione di Weibull con almeno cinque elementi da qui ne consegue che il sample size cioè la dimensione del campione deve essere almeno di 15 o 30 elementi per ciascuna sollecitazione che noi vogliamo di cui vogliamo determinare il tasso di guasto il punto 2 il punto 2 di quella famosa scaletta che noi avevamo a disposizione questa per intenderci il punto 2 prevede una discussione generale su che cosa sugli stress e sulla durata di ogni singolo stress di solito facciamo riferimento per quanto riguarda alla metodologia applicabile alle serie diciamo alle norme già 60 0 68 ambientali che già stabiliscono dei metodi oppure a delle classificazioni ambientali internazionali tipo IAC 6721 che contengono appunto delle indicazioni utili su durata e su severità quindi severità e durata naturalmente poi type A B e C per diciamo così dei sistemi devono chiaramente essere indirizzate a a che cosa a focalizzare delle eventuali debolezze che ci possono esempio una cosa importante da ricordarci è che il test anche se accelerato dovrebbe essere riproducibile questo significa che noi ci dovremmo basare su una metodologia delle tecniche in sostanza che in qualche modo possano garantirci l'estensione di quello che noi facciamo ad un modello ad un modello di riferimento e la riproducibilità di questa prova quindi garantire per esempio dei limiti di tolleranza sulle severità applicate tenete presente un altro fattore importante il software bene naturalmente i sistemi includono a bordo anche del software sviluppato magari appositamente per il sistema e ci sono ad esempio dei metodi per esempio richiamati dalla IAC 62429 che si riferiscono al test specifico sul software di questi dispositivi in ogni caso anche qui dovremmo fare delle ipotesi di funzionamento e sicuramente il campione che noi sottoponiamo a prove è molto piccolo rispetto dopo alla significatività della produzione e anche qui dovremmo fare delle considerazioni in merito siamo arrivati all'analisi dei risultati l'analisi dei risultati richiede quando poi dovremmo andare a vedere le cause di guasto richiede l'analisi proprio delle cause di questi guasti nel type A debolezze debolezze possono essere risolte risolte con con delle non so con delle opportune precauzioni che noi potremmo applicare sia a livello di riprogettazione oppure a livello di produzione mentre per il type B N e C viene richiesta proprio un'analisi di tutti i guasti perché naturalmente questa ci dovrà servire per fare la stima del tasso di guasto nel nostro dispositivo cioè noi con un test accelerato di tipo B dovremmo uscire con un dato numerico per esempio di tasso di guasto che sia abbastanza significativo per il nostro prodotto quindi non un numero inventato che deve comunque soddisfare dei requisiti a priori dobbiamo noi porci degli obiettivi e dobbiamo fare in modo che la prova risponda a quegli obiettivi che ci stiamo ponendo esempio applicativo abbiamo un un convertitore di cdc progettato ok per l'installazione su aeromobili e vi ho riportato nella nella diapositiva un dei risultati del l'alt test portato avanti su questo dispositivo come vedete nella prima colonna sono stati riportati i diciamo così i fattori che possono determinare un modo di guasto e qui sono stati identificati come temperatura estremamente bassa temperatura alta estremamente alta vibrazioni cicli termici quindi cicli che vanno da meno 70 a 125 e una prova combinata di temperatura e vibrazione quindi cicli di temperatura e vibrazione su questa tabella su questa tabella vedete che sono stati trovati i limiti cioè ad esempio la procedura di startup ha un limite a meno 70 cioè di sotto in meno 70 la macchina non effetta lo startup ai meno 76 la macchina definitivamente si ferma il dispositivo che abbiamo è definitivamente si ferma quindi il nostro convertitore di cdc io ho chiamato macchina impropriamente ma insomma il nostro convertitore di cdc a meno 76 non funziona a meno 70 ha dei difetti nel startup quali sono le conclusioni allora il limite ldt vuol dire che il limite distruttivo di temperatura not found significa che noi siamo scesi fino a per esempio 80 gradi e meno 80 gradi ma il dispositivo alla fine quando è stato riportato alla temperatura ambiente ha ripreso a funzionare in questo senso non esiste quel ldt cioè quel limite distruttivo in bassa temperatura il risultato di questo di questo esempio applicativo lo trovate in questa colonna quindi sulla bassa temperatura la debolezza qual è stata che la procedura di startup diventa instabile a meno 70 possibili cause sono ovviamente quelle indagate dal dal progettista le possibili cause sono state 5 3 e a 5 volte a 3 3 a questa temperatura quei riferimenti non funzionano e quindi lo startup non parte non solo è stato è stato trovato quello ma in bassa temperatura ad esempio il ripple di tensione subiva delle variazioni e qual è stata l'azione correttiva come vedete qui dentro nessuna ci sono proprio dei limiti nella tecnologia cioè siamo a conoscenza del fatto che questo DCDC funziona fino a meno 65 a meno 70 da dei problemi della startup a meno 76 perde la funzionalità ma allo stato attuale per la tecnologia impiegata cioè il costruttore come vedete in questa colonna non prende nessuna azione correttiva perché sa oramai il limite è quello evidentemente il prodotto sarà garantito con fino a temperature ben superiori a questa a questo livello massimo la stessa cosa vale per l'alta temperatura la stessa cosa per le vibrazioni con l'unica differenza che qui effettivamente c'è invece un livello distruttivo cioè al di sopra di 588 metri al secondo quadrato il dispositivo ovviamente si è si è rotto una sollecitazione molto molto elevata quindi applicare 58G a questo DC-DC converter equivale a distruggere il nostro dispositivo poi il come sia applicata dipenderà dopo da come il costruttore ha effettivamente effettuato queste prove potrebbero essere state shock oppure potrebbe essere stata una vibrazione sinusoidale per esempio in alta frequenza in ogni caso a questo livello di sollecitazione quindi 588 metri al secondo quadrato il dispositivo non funziona più quindi si rompe irrimediabilmente è un limite quindi è il limite distruttivo per la parte di vibrazioni ma come vedete ci sono altri due limiti che sono 294 metri al secondo quadrato determina una perdita lose screw cioè indebolimento nel fissaggio e una instabilità nella tensione dovuto a che cose il costruttore è andato poi a indagare ha detto guarda che diciamo così il sistema di fissaggio va migliorato e va migliorato anche il sistema di saldatura quindi effettivamente qui ha preso delle contromisure il progettista il costruttore quindi cosa ha fatto sul CDC converter ha incollato praticamente diciamo così il fissaggio e ha cambiato il processo di saldatura in qualche modo insomma è intervenuto e così per le altre due sollicitazioni ok vi porto un altro esempio che sono dei questo invece è un test altamente accelerato per diciamo così rilevare i limiti le debolezze di un di un'apparecchiatura elettromedicale anche qui le modalità quindi i modi di guasto quindi i fattori che possono scatenare dei modi di guasto sono la temperatura nei suoi due estremi quindi bassa temperatura alta temperatura le vibrazioni i cicli termici e una combinazione fra temperature e cicli termici ecco queste grandezze che vediamo nella colonna di sinistra sono le grandezze standard che possono intervenire in un'apparecchiatura elettronica per determinare i modi di guasto quando non abbiamo indicazione non abbiamo idea di quali siano le gli stress che possono determinare i modi di guasto ebbene queste 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 tipologie che noi abbiamo in questi esempi sono quelle che più tipicamente inducono dei modi di guasto vi accorcio l'esempio non sto a ripetervi quello che abbiamo visto precedentemente ma vediamo che anche in questo caso ci sono dei diciamo così delle indicazioni e delle azioni che il il nostro progettista il nostro costruttore poi ha effettivamente portato a termine oppure considererà di fare nella riprogettazione ok vi porto un esempio invece applicativo di tipo B questo diventa molto interessante per stimare invece il tasso di guasto di che cosa di un dispositivo elettronico per esempio impiegato nel settore automotive perché mi è utile questa questa schematizzazione perché qui dentro ci sono già i requisiti che io costruttore di apparecchiature questo electronic device che deve essere poi installato nell'automotive i requisiti che devo che mi pongo come obiettivo cioè io mi pongo come obiettivo dieci anni di funzionamento e attenzione con un'affidabilità di 0,8 cioè voglio dire io questi dieci anni in dieci anni mi si possono sicuramente guastare dei dispositivi ma l'affidabilità del mio apparato deve essere almeno 0,8 cioè ho l'ottanta per cento di probabilità che l'apparecchiatura effettivamente svolga la funzione per cui è stata progettata in quelle condizioni è una cosa diversa che definire un MTBF poi lo vedremo o un tasso di guasto quindi significa che io di fatto alloco dei requisiti di affidabilità cioè tempo 87.600 ore corrispondono a dieci anni e affidabilità cioè io voglio una probabilità dell'ottanta per cento che svolga la funzione e poi ho tutta una serie di parametri che mi possono anzi sono assolutamente necessari per implementare il piano prove cioè quanto rimane in funzione questo dispositivo rimane in funzione solo per due ore al giorno quindi effettivamente la sua vita operativa nel corso di dieci anni diventa 7.300 ore quando è acceso si porta minimo a 65 gradi è spento chiaramente per le restanti ore quindi per 22 ore al giorno e ha un ciclo termico che diciamo così la differenza tra la temperatura minima e massima quindi tipicamente quando lo accendo il suo delta T è di 45 gradi almeno due volte al giorno quindi vuol dire che questo apparecchio rimane in funzione due ore ma viene almeno acceso due volte al giorno e non ho particolari severità invece sulla velocità vedete in questa tabella di salita della quindi diciamo così il gradiente termico che è solamente un grado e mezzo e nemmeno sulle vibrazioni che sono tipiche per esempio di questo di questo ambiente bene io allora ho identificato sulla base di questa tabella che è tipica del mio progettista io ho identificato questi questi quattro modalità di guasto che sono cicli termici vibrazioni umidità e poi alta temperatura come faccio ad andare avanti a questo punto a questo punto io vado a vedere dai dati della tabella precedente se io voglio un'affidabilità di 0,8 a 10 anni bene l'MTBF di questo componente di questa apparecchiatura che io progetto con una semplice operazione ipotizzando di essere nel periodo di tasso di guasto costante cioè di aver fatto precedentemente tutti l'analisi delle delle debolezze e quindi di aver risolto a priori diciamo quei macro problemi che potevano emergere dovute delle debolezze intrinseche una volta superato quello sono nella maturità del mio progetto e mi devo aspettare che l'MTBF di questo dispositivo sia 392 mila ore a questo punto ci sorge un dubbio ma come non doveva funzionare per dieci anni attenzione identificare l'MTBF con la vita del mio dispositivo non è corretto ci manca un dato ci manca la probabilità che noi vogliamo di funzionamento del mio dispositivo se io identifico l'MTBF che poi corrisponde all'inverso del tasso di guasto con la vita del mio dispositivo siccome l'affidabilità è R è uguale a E alla meno lambda t è facile dimostrare che se io considero appunto la vita uguale all'MTBF io ho solo il 37% di probabilità che funzioni che per me costruttore è molto bassa cioè accettare che il mio dispositivo abbia la vita uguale all'MTBF ma avere la probabilità che funzioni solo per il 37% è un rischio che per me è inaccettabile e allora com'è meglio muoversi è meglio dire io voglio la probabilità quindi un'affidabilità dell'80% quindi la probabilità che funzioni per l'80% del mio dispositivo a 10 anni e da lì mi ricalcolo l'MTBF che dovrebbe avere il dispositivo che sono 392.000 ore ok avevo identificato quattro tipologie di di grandezze di severità scusate che possono determinare possono concorrere a determinare il tasso di guasto faccio un'altra ipotesi che ciascuno di queste quattro grandezze quindi ve le ve le riprovo ciclo termico vibrazione umidità esposizione ad alte temperature quindi ciascuna di queste quattro concorra per la stessa parte quindi per un quarto della della diciamo così del tasso di guasto complessivo in modo che poi la somma mi dia effettivamente il tasso di guasto totale del sistema cioè ciascuno di questi stress mi determinerà un un'affidabilità pari a un quarto quindi non un quarto scusate alla radice quarta perché poi è una produttoria dell'affidabilità totale cioè questo cosa significa che ciascuno stress dovrà avere eccolo qui sotto un dovrà concorrere quindi quindi per un'affidabilità dello zero 94 cosa significa tradotto in parole povere per il nostro per i nostri scopi che se io applicassi solamente di tutti questi quattro stress che ho identificati solamente quello termico mi aspetterei che il 94% circa il 95% dei dispositivi funzioni se lo applico se applico tutte e quattro invece le fonti che io ho trovato di stress bene posso dire che poi alla fine ho una certa confidenza che l'80% dei dispositivi possa effettivamente realizzare quegli obiettivi di affidabilità andiamo avanti nello studio e vi ho riportato come vengono determinati per esempio i cicli termici era uno degli elementi di stress che determina un modo di guasto e il numero di cicli viene determinato sulla base di ora questi effettivamente sono dei numeri potete trovare degli esempi dopo magari vi dirò dei riferimenti delle normative IAC dove questi esempi magari sono anche riportati ma era giusto per dare delle informazioni applicando un numero di cicli con diciamo queste severità cioè io non mi fermo alla temperatura massima di 65 ma vado a 105 non applico 1,5 gradi centigradi al minuto di gradiente ma ne applico 10 bene ho un fattore di accelerazione che mi porta a dire io riesco a effettuare la complessità di questa di questa prova cioè a realizzare quella RDT con 452 cicli termici della durata complessiva di 168 ore complessiva perché io espongo a livello di temperatura alto la sollecitazione diciamo così ad alta temperatura quei famosi 105 gradi che abbiamo visto nella diapositiva precedente questo significa che con una serie di conti che posso effettuare ho un tempo di esposizione di 22 di 22 minuti ad alta temperatura ho una una diciamo così 452 cicli e ciascun ciclo dura 52 52 minuti circa complessivamente io ho un tempo di prova di circa 400 ore quindi con 400 ore di ciclatura termica esposto poi ad alta temperatura cioè nel momento in cui applico l'alta temperatura del ciclo termico come ho calcolato in precedenza io riesco a traguardare i miei obiettivi quindi con 400 ore riesco a avere quella una certa confidenza sul dato di rdt la stessa cosa vi ho riportato per per l'umidità ora lasciamo perdere poi anche la complessità dei modelli applicati sappiamo quello che ci è utile a noi è che alla fine con un'esposizione di 300 ore 95% di umidità 85 gradi 85 gradi attenzione tenendo l'apparato a 85 gradi questo significa che avevo fatto delle prove di funzionamento ho 20 gradi di delta t nel momento in cui si accende fisserò la temperatura della camera a 65 in modo che poi effettivamente la temperatura monitorata del mio dispositivo sia 85 gradi in queste condizioni con 300 ore di esposizione all'umidità posso ragionevolmente supporre che io abbia traguardato gli obiettivi di r di t dovuti a un altro modo di guasto ovviamente la stessa cosa per le vibrazioni e per le vibrazioni io applicando questa diciamo così questa fattori dovuti appunto allo studio delle prove accelerate posso dire che con 18 ore per asse vibrato a 3G efficaci io riesco a traguardare sempre i famosi obiettivi che mi ero preposto di affidabilità qui ho una nota di colore da aggiungere da cosa derivano queste 18 ore di vibrazione per asse allora prendendo come riferimento i famosi military standard 810 sul trasporto quindi sull'ambiente automotive su gomma 10 anni di vita equivalgono mediamente in termini chilometrici in 240.000 chilometri e si traducono questi 240.000 chilometri in 150 ore per asse di vibrazione quindi la prova a lungo termine che risponde ai requisiti normativi dovrebbe essere di 150 ore per asse se io introduco questo fattore di accelerazione cioè non lo provo nelle condizioni diciamo così tabulate dalla military standard che erano 240.000 chilometri 1,7 g di valore efficace quindi un'accelerazione di circa 15-16 metri al secondo quadrato di valore efficace io lo provo esattamente al doppio un po' meno del doppio naturalmente questa ipotesi deve essere verificata cioè il mio dispositivo deve poter effettivamente svolgere la sua funzione con questo livello di vibrazione ma nell'automotive questo modello questo diciamo livello è abbastanza normale diciamo così per delle per delle parti montate in questo in questo ambiente applicativo bene da 150 ore della prova a lungo termine quindi la prova di endurance sono arrivato a 18 ore per asse di prova accelerata risultato finale di questa di questa interessante discussione sulla sulla stima proprio del modello risultato finale che effettivamente io sono in grado di calcolare i fattori di accelerazione e come vedete per la temperatura un fattore di accelerazione quindi questo è il primo di circa 24 quindi 24 volte accelerata per la per quanto riguarda invece la temperatura scusate il ciclo termico è quello che si riferisce a 24 e 2 per quanto si riferisce invece all'esposizione ad alta temperatura io l'ho accelerata la mia prova di circa 52 volte umidità 43 volte e vibrazione 12 e 6 a cosa mi servono questi dati questi dati mi servono per dire che complessivamente il fattore di accelerazione di questa di questo piano che io ho sviluppato è di circa 645 in cosa si traduce questo risultato si traduce nel fatto che io ho un fattore di accelerazione che mi può garantire mi può garantire che su una certa numerosità di componenti che io ho a disposizione io abbia un fattore di accelerazione 645 volte maggiore rispetto ad una prova di lunga durata e a questo punto dipenderà da quanti dispositivi sono in grado di mettere in prova per ottenere i miei obiettivi di RDT quindi di affidabilità i miei obiettivi di affidabilità tenete presente che sono per esempio per un solo dispositivo l'esempio riportato qui se supera questo piano provi il singolo dispositivo supera un teta test o un mtbf test di 508 virgola 7 ore ma questo cosa significa? beh significa che ha superato una prova il cui fattore di accelerazione era 645 il test che ho effettuato ha traguardato questo obiettivo quindi questo 508 ore significa che ragionevolmente visto che mi sono studiati i modelli li ho applicati con con coscienza ho calcolato i fattori di accelerazione evidentemente tenendo conto anche delle grandezze che posso applicare al mio dispositivo ho calcolato a priori i limiti posso dimostrare che non sono vicino ai limiti distruttivi bene su un singolo dispositivo a questo punto ho confidenza che i risultati possano darmi 645 volte questo valore di mtbf quindi su un singolo dispositivo avrò 645 per 508 ore il tasso di guasto se ho 10 dispositivi e tutti e 10 non si guastano ovviamente posso dimostrare che il tasso di guasto che io traguardo come obiettivo di affidabilità è 10 volte minore ovvero l'mtbf scusate è 10 volte maggiore con che confidenza lo dico con classici alfa e beta di 0 1 cioè l'indice di accettabilità del rischio che io effetto effettivamente applicando che io accetto applicando queste tecniche ricordiamoci sono comunque mediati da tecniche statistiche quindi una minima percentuale di rischio ce l'ho come prima vedevamo che l'mtbf effettivamente corrisponde al 37% di rdt anche in questo caso il dato che io dico di 508 ore di funzionamento del praticamente l'mtbf test è comunque accettabile con un rischio del 10% bene sono alla fine di questa chiacchierata di questa incontro e di nuovo mi ha fatto piacere che tanti di voi con cui abbiamo collaborato siano stati presenti oggi a questa questa nostra chiacchierata passerei la parola a Lorenzo per gestire semmai eventuali domande o altre o altre esigenze grazie Roberto grazie per per la tua esposizione vediamo intanto se ci sono delle domande vi lascio un minuto eventualmente per per scrivere delle domande vi ricordo che il prossimo mese il 19 marzo ci sarà il prossimo webinar della della nostra business unit di Scandici business unit elettromeccanica sempre in collaborazione con il laboratorio congiunto di affidabilità del professor Catelani questa volta parlerà il professor Ciani e i temi saranno quelli della tecnica Fmeca nella progettazione e nell'analisi dei guasti quindi la tecnica dell'analisi dei modi degli effetti e della criticità dei guasti che è un tema che molto spesso insomma ci viene richiesto e che a volte rimane un po' ostico da affrontare vedo che non ci sono domande vi ringrazio allora per la per la vostra presenza per l'altro numerosa e costante non ci sono stati diciamo disconnessioni o persone insomma che a quanto pare potevano non essere interessate quindi a questo punto ringrazio tutti voi per aver partecipato ringrazio Roberto per la sua presentazione e vi do appuntamento al prossimo webinar del 19 marzo grazie a tutti arrivederci grazie a tutti